Intera è una start-up che si occupa di progettazione e sviluppo di dispositivi in ambito medico, in particolare di dispositivi per la chirurgia mini invasiva. Intera offre oltre 20 anni di esperienza nell'industria medicale a servizio di medici ed aziende. Il servizio di Intera copre le attività di progettazione, fattibilità, prototipazione, le attività di supporto alla brevettazione e le fasi di ingegnerizzazione di prodotto. Intera supporta inoltre nelle fasi precliniche e regolatorie di certificazione di prodotto.